Non mi ricordo più esatto no, tutto no, ma il primo giorno del lavoro avevo un po' di paura perché da come si sentiva a parlare della miniera, è pericoloso verso l'altro. Beh, sono andato dentro a cominciare il turno dalle 2 alle 10, alle 10 la sera. E come dico, il primo giorno sono andato con il mio minatore e il suo fratello con due luci, bravi frutei, che cercavano di farmi capire perché non sapevo francese, ero sprovvisto di tutto, ma in qualche maniera mi sono arrangiati un po' con le mani. Ho capito. Senti, ma con chi hai parlato per essere assunto? Chi è che ti ha selezionato? Per la mina? Sì. Il direttore della società che mi ha assunto.